ciao a tutti e benvenuti a mondo supernova la trasmissione che si occupa di ascoltare le voci intorno al pianeta ross e meno simone chi è che abbiamo come ospite oggi ciao marco un saluto tutti i nostri affezionados all'interno di mondo supernova oggi super ospite nicola profumo lui gioca con la serie di alla dispoli però poi di fatto all'interno del mondo supernova allena i più piccolini del mini basket maccarese e più grandicelli nel settore giovanile a fiumicino sempre pronto a dare una mano ai nostri ragazzi in palestra ciao nicola domanda di rito come va ciao ciao a tutti bene va assolutamente bene dopo dopo tutti questi mesi abbiamo iniziato a lavorare in palestra le cose che si fanno sono tante un po di stanchezza inizia a sentirsi dopo i weekend tutte le partite però va benissimo sicura da te che alleni tutti praticamente più piccoli il mini basket a maccarese più grandi nel settore giovanile della supernova a fiumicino una tua valutazione a tutto tondo in questi primi mesi il progetto della supernova allora io venendo già da maccarese dagli scorsi anni vedo che il la titella si è alzata tanto nel progetto è sicuramente molto interessante e stimolante perché ti dà la possibilità di lavorare al meglio in palestra dei ragazzi e di farli crescere e soprattutto in un ambiente sereno e pieno di possibilità che tra grandi obiettivi voli per allenarsi più squadre senior che possono essere poste come obiettivo finale per la crescita dei ragazzi è un po questo il modello della supernova e rispetto alla tua lunga esperienza ritieni che sia il modello giusto da seguire per lo sviluppo dei più piccoli certo certamente perché avendo più squadre senior soprattutto che combattono ai vertici delle classifiche nei rispettivi campionati serie b e serie d è stimolante per tutti i ragazzi perché ogni giorno si allenano per migliorarsi e in un futuro arrivare loro a essere i protagonisti delle prime squadre e anche a noi allenatori porta ad alzare l'asticella perché dobbiamo migliorare le nostre potenzialità per portare i ragazzi sempre più avanti perché in un futuro saranno loro i giocatori delle nostre prime squadre ha iniziato anche tu nicola giocare da bambino eri un giocatore lo sei ancora con la serie di quel di ladispoli ma cosa rivedi attualmente cosa è diverso rispetto alle generazioni attuali dal passato al presente allora cosa è cambiato sono te allora sicuramente un aspetto che ho notato di differente da quando ero piccolo io che ho iniziato e rispetto ai piccoli di ora che quando iniziato io il tutti gli allenamenti il lavoro era strutturato molto sull'aspetto del gioco e del divertimento piuttosto che sugli aspetti tecnici mentre ora fin da piccoli si pensa molto di più all'aspetto tecnico certo divertendosi ovviamente però si lavora molto di più sull'aspetto tecnico e fin da piccoli si lavora sugli aspetti fondamentali del gioco e anche fisicamente perché le generazioni nuove rispetto a quelle passate sono cambiate soprattutto fisicamente quale consiglio ai da dare ai più piccoli che vengono puntualmente in palestra sicuramente di non smettere mai di divertirsi perché con quello che si continua a migliorare però lavorando perché solo col lavoro poi si cresce la secca ti piace più allenare o giocare e ancora entrambe se la giocano allo stesso livello e se ti facessi questa domanda fra dieci anni quando non ce la farai più a giocare rimpiangerai più il tuo essere giocatore o ti godrai il tuo essere allenatore ti va bene così sicuramente mi godrà il mio essere allenatore perché poi le esperienze le esperienze nelle meso fatte quindi mi godrà il mio essere allenatore in futuro qual è l'avversario più forte che ti sei ritrovato contro allora sicuramente l'avversario più forte mi sono trovato contro avevo 14 anni giocavo per la ss lazio basket e abbiamo giocato un torneo dove in finale abbiamo beccato la squadra di luca donci dell'olimpia lubiana c'è qualche accorgimento particolare che utilizzasse nel doverlo affrontare ovviamente già a quell'età aveva doti tecniche e fisiche soprattutto era alto già a 14 anni già un metro e ottanta e aveva anche doti tecniche impressionanti considera che da metà campo faceva un palleggio si fermava e tirava sui dieci tiri ha fatto otto canestri in partita e noi avevamo preparato già la partita stando praticamente in due sempre su di lui però comunque ha fatto 40 punti si tratta del torneo lito di roma famoso torneo di roma nel 2012 quello che poi viene sempre citato nel momento in cui si parla della prima manifestazione in cui donci brillò è quella in italia prima del passaggio poi alle giovani di serena sì sì noi 14 anni infatti già a fine partita tutti foto con lui già si sapeva che avrebbe firmato real madrid un contratto e quindi all'epoca noi tutti i 14 anni lo guardavamo già con ammirazione e allora con questo aneddoto prezioso ti ringraziamo e ti salutiamo nicola grazie 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 a voi e un saluto a tutta tutta la famiglia supernova con simone ci ritroviamo alla prossima edizione di mondo supernova alla prossima